Baia Ranzos Beach Club Resort, 4 stelle, Golfo Aranci, Sardegna. In un tratto di costa tra i più belli ed esclusivi della Sardegna, affaccia sull'isola di Tavolara. Il resort è stato ristrutturato mantenendo una profonda sintonia con le tradizioni locali e la bellezza del luogo. Il voto alla location è 9. A 350 metri dalla caletta di sabbia e scogli, attrezzata e ad uso esclusivo degli ospiti, raggiungibile tramite strade pedonali. A 1500 metri l'ampia spiaggia di Sosaranzos. Il voto alla spiaggia è 8. 120 camere confortevoli, tutte dotate di veranda attrezzata, alcune con vista mare. Sono adatte ad ospitare fino a 5 persone. Voto alle sistemazioni 8. Presso il ristorante in veranda viene servita la pensione completa a buffet, con diverse proposte di cucina mediterranea. Acqua e vino sono incluse ai tasti. Il voto alla ristorazione è 7. Gli sport sono al primo posto nel programma di animazione, diurna e serale, nel resort e in spiaggia. Spettacoli per famiglie in anfiteatro e musica dal vivo faranno passare delle divertenti serate agli ospiti. Voto all'animazione 7. Le parole chiave per questo villaggio sono posizione strategica, sistemazioni confortevoli, animazione e sport. Come raggiungere questo resort? Semplice, con Alltours hai il pacchetto nave gratis per tutta la famiglia. Il voto finale è 8. Ah, ricordati che con Alltours la tua vacanza inizia da qui. Alltours la tua vacanza inizia da qui.